golden state warriors contro dallas mavericks tre punti dice per forza e stef clay lo splash cucino lì al secolo jordan pool e invece no cioè no in cui senso lì tre punti di riflessione tre punti di disamina tre elementi che ho notato io va bene uno troppo facile clay thompson legamento crociato di ginocchio tendine d'achille in campo 941 giorni dopo trentello nella partita che porta golden state alle finals per la sesta volta negli ultimi otto a sesta sei volte negli ultimi otto anni capito e poi c'è ancora qualche uno che ci vuole venire a raccontare che la pallacanestro è decisa dai sordi che i contratti le cose no stabilite prima tavolino nella burocrazia sono quelle che contano nella pallacanestro non è vero niente e il basket è come una macchinina guidata dall'alto no in cui senso lì meno meno letterale di così due gli altri perché va bene i big three va bene steve care va bene lo zoccolo duro della squadra quella di record famoso di diversi anni fa però se i golden state warriors sono arrivati alle finals è anche merito di tutto il lavoro che nel frattempo hanno fatto negli ultimi mesi negli ultimi anni in attesa di recuperare i lungodegenti e quelli che ci hanno avuto tutti i problemi gli altri quelli che nel frattempo sono arrivati no gli andrew wiggins per esempio i heaven looney quelli che sono riusciti a trovare in questo contesto la massima espressione della loro utilità cioè in carriera proprio di heaven looney per esempio al di là dei numeri al di là dei rimbalzi è importante le cose che ha fatto le piccole cose la presenza il fatto comunque di dare un riverimento sotto canestro agli warriors e poi è anche stato autore maniera più o meno simbolica di canestro e in un certo senso ha indirizzato ha segnato comunque sia questa serie gara 1 golden state avanti 1 a 0 però sotto di 14 punti all'intervallo con il rischio concreto che dallas potesse pareggiare la serie ribartare il fattore campo prendere fiducia avrebbe potuto essere tutto sommato una serie completamente diversa da quella invece che invece poi è venuta fuori in quel momento lì il terzo quarto delle grandi squadre il simbolo proprio noi terzo quarto di golden state chiuso per l'appunto con la schiacciata di heaven looney partita riaperta serie chiusa quasi tre l'atteggiamento che per quel che mi riguarda è forse l'unica nota dolente in questo quadretto che si è dipinto fino a ora perché gli warriors sono i miei favoriti da tempi assolutamente non sospetti lo sapete non c'era più nessuno l'anno scorso però certe volte io ho come l'impressione che si fiacciano un pochino troppo il rischio è il peccato di superbia la troppa leggerezza anche perché chiunque arrivi in fondo da quell'altra parte cioè a est è un necci va troppo per le sottili cioè di là quelli che dovessero arrivare sia che siano gli hit sia che siano i celtics e ora se ne parla e arrivano con il sudore il sangue con i bracci aperti sono morti e risò sono cascati si sono picchiati se ne sono date arrivano tipo gli spurs zombie di game of zones dall'altra parte quindi no cioè la palla canestro alle volte sempre per ordini che arrivano dall'alto superiori tende a fattelo un pochino pagare questo atteggiamento magari un po troppo di supponenza cioè quando fai lo spaccone la palla canestro ti punisce il lico et immediato proprio subito lettura io credo che luca doncic sia cresciuto più in queste cinque partite cioè in questa serie che non paradossalmente in tutto il resto della sua carriera precedente cioè fino a questo punto perché sembra strano ma quando sei il bimbo prodigio da quando sei nato praticamente quando sei l'eroico bambino è la cosa più difficile che ti viene da fare è perde lo so è perde è proprio è proprio verde io l'ho visto in questa serie leggere le situazioni provare a capire come sfidare una delle migliori difese al mondo concentrata dirottata allertata quasi esclusivamente dalla sua presenza perché parliamo sicuramente con il talento che ha a disposizione all'interno della squadra nella quale giocava quest'anno per come era composta lui si poteva tranquillamente pigliare triple da nove metri ma una o due per azione senza che succedesse niente invece probabilisticamente non si è accontentato quasi mai ha letto le difese ha provato a coinvolgere i compagni ha attaccato il canestro io ho visto una maturità in questo senso e ha avuto anche delle chiavi di lettura a livello emotivo della serie che mi hanno sorpreso che non mi sarei aspettato dal luca doncic per come era sempre stato fino a ora per esempio ha detto so giovane c'ho 23 anni sto ancora continuando a imparare probabilmente è il più giovane di tutti i tempi ave detto di essere giovane io non lo so questo però questo è un chiaro sintomo del fatto che luca doncic sta crescendo in tutti i sensi non potevano vincere ma come magia proprio però questa potrebbe essere stata una tappa importante del percorso di avvicinamento all'anello e allora raggiunto questo tipo di consapevolezza anche interiore può bastare questo per i Dallas Mavericks del prossimo anno per arrivare dove non sono arrivati quest'anno gioia vince l'anello e secondo me no nel senso che fatto salvo il discorso su luca doncic e qui manca un lungo e uno che faccia robin che decida di essere un altro portatore di palla o meno quello lo si può analizzare ma comunque una spalla in un certo senso e qui entra in gioco mark cuban perché questa è l'estate decisiva in questo senso Dallas deve decidere cosa vuole fare da grande con luca doncic c'è bisogno di un'estate come 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 si deve io sto d'accordo con quelli che dicano il percorso di luca doncic assomiglia in un certo senso a quello a suo tempo fatto da michael jordan in termini proprio di consapevolezza interiore anche in termini di fiducia che pian piano sta provando a riporre nei suoi compagni nel modo anche che ha di di approcciarsi alla palacanestro all'nba alla lega però c'è una differenza sostanziale se se ne fa una questione di di contorno di squadra che c'è intorno è il gruppo di di Dallas di queste ultime stagioni e di quest'anno in particolare sta al gruppo che avevano al tempo i Chicago Bulls come il tetto che ha gocciolato a questo giro a palazzo sta alle perdite d'acqua dei tempi capito cioè l'anni capito l'anni 90 ragazzi con l'anni 90 non ci puoi avere niente a che fa ma proprio mai in nessun senso e vinca loro sempre ma i am it contro boston celtics jimmy butler jimmy butler non è soltanto il leader di questo gruppo il miglior giocatore e quello che si fa pagare le murte da pj taker è anche in un certo senso il barometro il termometro di quella cartina di tornasole cioè quello che te guardi lui e subito capisci come sta la squadra e in questo momento te guardi jimmy butler e vedi la spia di di cruscotto della macchina che che lampeggia capito che segna che sono a morto proprio numeri questa è la regular season pazzesca se posso permettermi un parere personale di jimmy butler anni sempre 32 come tutti i grandi giocatori con l'arrivo dei playoff ha alzato il rendimento cioè è da notare che numero di tiri liberi tentati quindi guadagnati è rimasto intatto per cui si potrebbe dire pari a livello di intensità di gioco di aggressività di cattiveria agonistica e però le cifre sono migliorate tutte qualitativamente parlando poi arrivano le finali di conference e fino a gara 2 compresa butler segna molto di più tira molto meglio non sbaglia quasi mai praticamente si guadagna anche molti più tiri liberi aggredisce la partita prende in mano la serie poi in gara 3 i problemi fisici ora l'infortunio di jimmy butler non è un infortunio di quelli che uno dice no particolarmente gravi tant'è vero che a me non mi pare neanche che sia andato incontro a chissà quali accertamenti dal punto di vista medico e diagnostico cioè si tratta di un'infiammazione a ginocchio però è uno di quegli infortuni tignosi perché rimane lì capito è latente non è abbastanza grave poi mi correggerete dal punto di vista medico se c'è qualche uno specializzato nella cosa ma da quello che si deduce non è abbastanza grave da fermare il giocatore né tanto meno da operarlo o fare chissà che cosa però c'è e lì ti dannoia rifaccavo continua a me basta il piccolo capito e continuando a giocare è come se in un certo senso tu lo riaggravassi continuamente quindi non ti puoi fermare perché tutto sommato non stai male però non stai neanche bene e quindi non riesci a giocare come vorresti non riesci a essere jimmy butler infatti da gara 3 in poi le cifre di butler precipitano cioè segna poco tira male e praticamente non va più in lunetta sintomo del fatto che non è aggressivo come il suo solito miami semplicemente non se lo può permettere nessuno mi toglie dalla testa che gran parte dei problemi ma più che altro mi verrebbe da dire delle amnesie che sta avendo miami in questo periodo non a caso il primo quarto disastroso di una delle partite più importanti della serie derivano proprio da questo discorso qui cioè dal fatto che jimmy butler c'è però allo stesso tempo è un c'è poi è jimmy butler probabilmente d'orgoglio è anche facile che un'altra partita la riesca a tirare fuori da jimmy butler di qui è la fine della serie però questa è una cosa anche secondo me particolarmente preoccupante anche in prospettiva di un eventuale passaggio di turno proprio perché il problema di jimmy butler rimane non a caso spolstra esplicitamente ha cercato da gara tre in poi di coinvolgere di più a livello offensivo a debaio che le qualità da un punto di vista tecnico e anche di talento ce l'avrebbe però non è qui giocatore lì cioè non si deve sforzare per essere protagonista effettivo a livello offensivo della squadra miami è lunga miami è lunghissima si è detto in tante situazioni una delle squadre forse più lunghe a livello proprio alto ti poi permette anche di avere dei problemi con tyler irro perché c'è duncan robinson e viceversa c'hai oladipo che magari può sopperire anche il lauri che ancora non si capisce bene in che condizioni cioè ce l'hai delle possibilità ce l'hai delle alternative però forse l'unico giocatore l'unico l'unico davvero giocatore che non ti poi permette di perdere il livello proprio di intensità di aggressività che lui setta nei confronti della squadra con la sua sola presenza è Jimmy Patre Jimmy Patre è un'alternativa un ce l'ha bisognerebbe tu trovassi un veterano un grande leader grandissimo agonista grande difensore che conosce bene tutte le dinamiche di Miami che conosce bene anche gli hit spestra chi c'è stavate parlando di me cercavamo un uomo per parti urgenza questi playoff mi stanno a livello proprio mio personale facendo scoprire volevo dire riscoprire ma in realtà scoprire Ime Yudoha voi sapete io non ho mai avuto parole particolarmente al miele nei confronti del nuovo allenatore di Boston fin da quando è stato annunciato però penso che in questo senso possa aver influito anche la stima che io nutro nei confronti di Brad Stevens probabilmente per un'eventuale sostituzione di Brad Stevens io l'avrei accettata senza di nulla proprio stando zitto se fosse arrivato non lo so Phil Jackson o Bradov quello di Greennell College cioè tipo personaggio di per tutti quell'altro io qualcosa da ridire l'avrei trovata però allo stesso tempo più che vedo i Boston Celtics in questi playoff in particolar modo e più che mi rendo conto che Yudoha è particolarmente dentro alla situazione cioè legge bene anche gli stati d'animo emotivi di questa squadra ha parlato a un certo punto di urgenza della vittoria perché Boston si stava riuscendo a esprimere sempre su certi livelli dopo una sconfitta magari anche brutta magari arrivata con un po' d'amaro in bocca con qualche polemica è successo anche con Miluoghi e subito dopo una sconfitta è sempre arrivata una bella vittoria però poi dopo la vittoria è come se la squadra in un certo senso no c'era bisogno di quell'urgenza di vincere che Boston però dopo che lui l'ha nominata dopo che ha toccato le giuste corde emotive è riuscita a trovare anche dopo una vittoria in gara 5 anche dopo una vittoria che sia questo l'ultimo tassello quello che mancava che separava sempre i Boston Celtics dalle finals non lo so non lo so mai dare per morta a Miami io questo l'ho imparato Miami non muore neanche dopo quattro sconfitte perché è l'unico uno dei pochissimi progetti nell'NBA e anche in caso di eliminazione va avanti comunque da Pat Riley a Spurstra in poi va avanti quindi figuriamoci prima ancora di essere eliminati prima ancora di essere fuori dai playoff come sarebbe sbagliato dare per morta a Miami però Boston in questo momento è veramente bella da vedere cioè c'ha veramente tante tante cose c'ha il leader che è Jason Tatum c'ha il secondo violino che è Jalen Brown e poi c'ha i segreti tra virgolette peggio nascosti della Lega cioè quelli che fanno lo zoccolo duro l'importanza di questa squadra i Time Lord i Grant Curry i Marcus Smart quello che era troppo vecchio peggio ha ok sì e ora invece anni dopo cost costeggia e manco sanichizze tra l'altro io volevo spezzare se possibile una lancia a favore dei sovrimpressionista dei Thunder dell'epoca perché bisogna anche un attimo capire il contesto no prima di dare le colpe e per come è la mentalità ok sì se se pigli un giocatore ora è capace che il prossimo anno ti pare vecchio tu provi a darlo via per d'uscerti tra tra 15 anni cioè capito quella è quello è il modo di di ragionare figuriamoci all'Orford è entrato nella Lega nel draft di Noa di Joachim Noa di Thiago Splitter se tu vai da un tifoso di Oasis gli dice ma secondo te perché sei ritirato Noa e Thiago Splitter lui dice boh io non so a scuola mi avevano insegnato che vende un asteroide ai tempi no e li estinse cioè questo è il modo capito di ragionare detto questo parlato di tutto questo ci manca però la parte più importante di Boston che ancora non c'è nominata il cuore si fa male Smart infortunio anche brutto sinceramente esce e torna nella stessa partita si fa male Tatum portato fuori torna lui pure nella stessa partita questi qui più volte li sdrai più volte si rialzano più li picchi e più ci sentano è un fatto proprio neanche soltanto di orgoglio di attaccamento alla maglia è proprio una questione di durezza mentale di attitudine di sfida con te stesso volevo dire non è che te li fai a guardare candy handy i tifosi di questo genere per dire